Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Un incidente mortale si è verificato sul circuito del Mugello. Durante una gara amatoriale organizzata dalla Pomaways di Firenze, si è verificato uno schianto che ha portato alla morte di un pilota e al ferimento di altri due. Nonostante l'incidente, sembra che i due feriti, anche se gravemente colpiti, non siano in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto durante una competizione sportiva tenutasi a Scarperia, sul circuito del Mugello, il 27 agosto. La vittima dell'incidente è stato un pilota di 52 anni proveniente da Adria. Nel tragico incidente sono stati coinvolti anche altri due piloti amatoriali. La dinamica è, va ancora da definire e al momento l'identità della persona deceduta c'è, ancora sconosciuta per motivi di privacy. Questo ci fa riflettere sull'importanza della sicurezza stradale e a guidare sempre con prudenza e responsabilità. Grazie per la visione e al prossimo video! Ehi, non mancare!